Una giornata particolare, un po' diversa dalle altre tre edizioni. Una giornata nuova che porta fortunatamente la prevenzione del suicidio alla luce del sole e con un contesto di felicità, di persone che vogliono stare insieme, testimoniare la vita. Siamo sempre più numerosi, quest'anno un format ancora più innovativo e più completo per tutti i gusti, quindi non solo la corsa ma anche attività sportive collaterali. Quello che a me interessa è portare il tema della prevenzione del suicidio a vantaggio della comunità, far sapere che c'è la possibilità di prevenirlo, di aiutare gli individui in crisi e che tutti noi dobbiamo poter fare qualcosa e riconoscere chi ha bisogno di aiuto e dare quell'aiuto che salva la vita. Lo sport è, crediamo, uno dei primi messaggi, uno dei primi medici di prevenzione soprattutto al suicidio perché come diceva lei professore, lo sport ha dentro di sé lo stare insieme e lo stare insieme è un deterrente per chi... Assolutamente, non solo la tradizione e l'esperienza ce lo insegna ma ancora oggi la ricerca scientifica ci dice che chi fa sport ha un fisico migliore, ha delle cellule più vitali, ha più vitalità nel proprio fisico e ha più voglia di vivere. Quindi fare sport ora è scientificamente provato che testimonia la vita e aiuta chi è in crisi. Professore Maurizio Pompini, per conoscere meglio la sua attività e di tutto il suo team ci dà qualche indicazione? Sì, vi chiedo di andare sul sito prevenireilsuicidio.it, lì trovate veramente tutto o raceforlife.it per gli approfondimenti su questa iniziativa. Grazie a voi. Sì, attenzione, siamo a 30 secondi, faremo il conto alla rovescia, 3 o 6 chilometri a scelta. Potrete, attenzione, 5, 4, 3, 4, 1 ed è partita. Sono il giro d'oro grigida, ho vinto la medalia di bronze all'università di ripattinaggio di velocità sul ghiaccio. Sono qui a testimoniare che lo sport aiuta in qualsiasi occasione della vita, anche in quelle più inaspettate. Consiglio a tutti quanti, praticate uno sport, qualsiasi sport, perché scaccia i brutti pensieri e aiuta ad essere più felice e più serene con se stessi.